La quinta giornata di Serie C in Aos si giocherà allo stadio Dal Molin. I giallocelesti scenderanno in campo per la sfida con l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina, formazione neopromossa tra i professionisti. Con il tecnico Alessandro Bruno apriamo la conferenza stampa analizzando la gara. Grazie mister. Salve, sì, è una partita diciamo molto importante per noi perché credo che siamo vicinissimi proprio alla prima vittoria di campionato in quanto vedo delle buone cose, però purtroppo paghiamo sempre a caro prezzo degli errori che commettiamo a livello mentale e quindi la partita scorsa è avvenuto questo. Nonostante secondo me abbiamo disputato una buona gara, tirando tante volte in porta e noi con veramente pochissimi di rimporta siamo riusciti a prendere tre gol. Questo comunque perché è frutto diciamo delle nostre lacune, delle nostre mancanze e dobbiamo fare in modo che queste cose vengono eliminate al più presto possibile perché il campionato è iniziale e quindi le partite sono sempre difficili. Dobbiamo iniziare a fare punti e questa è un'occasione molto importante per noi che dobbiamo sfruttare il fattore casalingo. Dobbiamo scegliere in campo con tanta determinazione e cercare di non commettere più errori che abbiamo commesso fino a loro. Francesco Meneguzzo del Giornale di Vicenza. Sì, ciao mister. Venendo alla sconfitta con il Trento, a mio parere la squadra a livello di gioco se l'è giocata ampiamente con gli avversari, però non sono arrivati i punti. Quindi ti chiedo cosa è mancato a tuo parere, stiamo qui a parlare di errori, di vele caute. A tuo parere cosa è mancato ai ragazzi? C'è mancata un po' la finalizzazione perché siamo arrivati a tirare in porta più di 20 volte di cui queste 10-11 volte abbiamo preso lo specchio della porta e quindi ci vuole un po' più di cinismo, un po' più di cattiveria lì quando andiamo a riempire l'area nel calciare, nel concludere e cercare poi di eliminare quelle piccole disattenzioni, quelle piccole leggerezze che commettiamo già dalla prima partita. Quindi poi il gol si può prendere, sì è vero, però poi dopo dobbiamo restare in partita fino alla fine perché le partite possono cambiare in qualsiasi momento. Poi dopo mi è piaciuta anche la forza e la vehemenza con il quale la squadra è rientrata in partita. Però purtroppo quando commetti degli errori così banali, sciocchi e dura poi dopo rientrare. Noi ci abbiamo provato, ci manca una piccola dosa anche di fortuna che nel calcio non guasta mai, adesso paghiamo sempre a caro prezzo gli errori che commettiamo. Adesso ci lavoriamo, ci stiamo lavorando tanto su questo aspetto e speriamo di non commetterli più. Perso contro il Trento, adesso arriva la gara contro la Claudinze che ha un'importanza vitale non solo per la classifica ma soprattutto per il morale, penso. Sì, soprattutto per il morale perché poi dopo le vittorie, i punti ti fanno stare bene. A noi ci manca veramente tanto la vittoria, però sono consapevole e sono sicuro che arriverà presto perché io vedo sempre il lavoro dei ragazzi quotidiano, si impegnano sempre e facciamo sempre degli allenamenti ad alta intensità, con ritmo elevato, con delle giocate veramente fatte bene e quindi questo fa sperare per una prestazione positiva di domenica. Affronteremo la Claudinze, squadra neopromossa, quindi ti chiedo di decifrarmi un po' questa formazione. Sì, l'ho vista molto più, l'ho vista questa formazione molte volte, è una formazione che comunque corre tanto, ha grande spirito, è uno spirito di una squadra che si deve salvare e quindi hanno tanti giocatori che ce la mettono tutte su ogni situazione di gioco, anche quando vanno in difficoltà si compattano e si aiutano. Quindi è una partita molto difficile per noi, dura da affrontare perché comunque loro veramente giocano ad alta intensità, ripartono con grande emmenza, hanno giocatori di gamba, Biondi, Morello, sono giocatori che comunque fanno la differenza, ripeto, si aiutano, la loro forza è questa, si aiutano, si compattono e danno sempre il massimo. Con il Trento hai cambiato un po' l'assetto, il modulo, chiamolo come si vuole, pensi di riproporre ancora il 3-5-2, secondo te cosa dovranno fare i tuoi ragazzi per finalmente festeggiare? Sì, abbiamo cambiato l'assetto tattico perché se le cose non vanno bene comunque l'allenatore deve mettere sempre qualcosa di diverso e cercare di migliorare, abbiamo cambiato l'assetto tattico, domani vediamo un po' durante la rifinitura le situazioni migliori da fare, però questa è una soluzione che comunque nonostante il risultato ci ha dato spunti positivi. I ragazzi comunque devono credere in quello che facciamo e dobbiamo cercare di essere più civici quando ci capita l'occasione. Grazie mister. Con il centrocampista Eran Lakti in conferenza stampa alla vigilia della quinta giornata di Serie C Now. La sfida che ci attende è quella con l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina ne ho promossa tra i pro. Grazie mille Eran. Grazie a voi. Domenica all'Euganio contro il Trento hai siglato la tua prima rete stagionale firmando il momentaneo pareggio. Ripartiamo dal post-match dando uno sguardo anche al prossimo futuro, da domani si apre un tritico importante di impegni a Teherald. Sì dai diciamo che domani inizia una settimana importante per noi, per la società, per tutti perché affrontiamo tre partite e una dopo l'altra. Quindi importantissimi diciamo vedendo la situazione in cui siamo adesso. Sono molto contento del primo gol stagionale ma anche della prestazione che abbiamo fatto che secondo me ma anche da quello che ci ha detto il mister è stata molto buona. Dobbiamo ripartire da quella, li mando un po' gli errori perché diciamo sono quelli che ci hanno un po' penalizzato. Un po' errori di attenzione diciamo, non nemmeno tattici, tecnici, però più di attenzione. Quindi dobbiamo ripartire da quella prestazione e ci elevando un po' gli errori. Domani che partita sarà a Erald presentiamo la gara con la formazione Granata che l'Arzegnano ha incontrato più volte nella storia della massima serie di lettantistica ma che ospiterà per la prima volta qui al Dalmolin tra i professionisti. Sarà sicuramente una partita tosta, l'abbiamo analizzata col mister. Hanno quattro punti in più rispetto a noi quindi sicuramente è una squadra che sta bene adesso. È una squadra compatta, rischia poco e sicuramente verrà qua per fare punti. Quindi noi non dobbiamo permettere questo, dobbiamo anzi non sottovalutarli, affrontarla con grande sicurezza, con convinzione di poter far punti e speriamo in un po' di fortuna in più rispetto alle scorse partite. Francesco Meneguzzo, anche per te il giornale di Vicenza. Sì, ciao Erald. Lo scorso anno sei stato senza ombra di dubbio uno dei più positivi della compagine giallo-celeste quindi tra virgolette sei diventato uno dei leader della nuova squadra. Ti chiedo se ti aspettavi una partenza così ad handicap e soprattutto cosa dovete fare per uscire da questo momento di difficoltà. Ma le prime quattro partite abbiamo affrontato due squadre, Padova e Trestina, molto plasonate che hanno fatto squadre per vincere il campionato. Quindi un po' diciamo sì me l'aspettavo che anche l'anno scorso le prime tre partite avevamo fatto un punto quindi poi quest'anno siamo molto più giovani rispetto all'anno scorso con ragazzi che ancora devono fare esperienza però dai con il lavoro secondo me piano piano riusciremo a alzare il livello cioè levare gli errori, diventare un po' più esperti della categoria. Contro il Trento sei tornato ad agire tra virgolette in mediana pura hai fatto anche gol quindi ti chiedo ti sei trovato meglio come procede? Sì, quello diciamo che è il mio ruolo ufficiale cioè mi piace fare la mezzala, mi piace inserirmi e poi sono molto contento del gol devo dire che anche le prime partite da quinto mi sono adattato ho cercato di fare quello che il mister mi ha chiesto quindi dove il mister mi mette cerco di dare il massimo. Adesso c'è la gara contro le Claudiense una gara per diversi aspetti fondamentali. Sì, molto importante per noi, per la società, per lo staff, per tutti perché giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi, alla società che ci guarda, ci sostiene quindi dobbiamo cercare di fare il massimo, fare punti perché è importantissimo adesso in questa situazione e bisogna alzare il punteggio della classifica perché è importante. Mancano ancora 34 partite, il campionato è lungo, però bisogna iniziare il prima possibile. Con la leadership che ti contraddistingue, Herald, che Arzignano servirà domani e qual è l'anima del gruppo che porterete sul terreno di gioco? Servirà un Arzignano molto attento, esperto e anche un po' ignorante diciamo in qualche situazione quindi speriamo di far bene e staremo a vedere. Ore 18.30 al fischio di inizio di Arzignano Valchiampo, Union Claudiense Chioggia Sottomarina la diretta è sempre su Sky Sport e Nao TV ma la partita è qui allo stadio Dal Molin. Grazie al nostro allenatore Alessandro Bruno, alla stampa il grazie e l'augurio di buon lavoro va al nostro centrocampista Eran Lakti. Grazie a tutti.